Appuntamento con il classico review dei risultati e delle prospettive del basket fiorentino per questa settimana. Ciao Fabio. Ciao Anico. Prima di parlare di questa settimana, che è la settimana del derby, una settimana particolarissima qua a Firenze, andiamo sulla stretta attualità perché c'è un risultato importante da sottolineare di basket giovanile, che è quello dell'Enic Firenze Under 20 eccellenza, che ha firmato la qualificazione nelle prossime finali nazionali. Fabio all'Interzona di Napoli è stata dominata dalla squadra di Salvetti. Percorso netto per la squadra del Pino Dragons, che ha vinto la prima gara con Stamur Ancona, poi con San Paolo Stiense e a qualificazione già ottenuta ha vinto oggi con Ponte Vecchio. E' un bel risultato, negli ultimi cinque anni comunque il Pino Dragons ci ha un po' abituato a arrivare sempre negli atti conclusivi delle manifestazioni giovanili, sicuramente questo obiettivo raggiunto delle finali nazionali Under 20 eccellenza è un bel traguardo perché comunque è l'ultimo campionato giovanile prima dello sbocco sul senior, l'attività di eccellenza, quindi vedremo anche a Roseto che cose riuscirà a fare la squadra di Salvetti. Per il momento complimenti a l'Enic. Chiusa la parentesi sul giovanile, entriamo nella settimana del derby. Onestamente Fabio non c'entriamo benissimo dopo i risultati del weekend. No, dopo un mercoledì da Leone c'è stato un weekend con solo scuri e niente chiari perché hanno perso sia Pino Dragons che Fiorentina. Iniziamo dalla Fiorentina che ha perso al supplementare a Doleggio, ci sono anche degli attenuanti per questa appometra sferta per la squadra di Nicolai perché si è presentata in Piemonte senza due giocatori molto importanti come Bloise e Siracov, entrambi bloccati per infortuni. Attenuanti che arrivano però fino a un certo punto perché comunque per cercare di arrivare a questo benedetto terzo posto o comunque a un piazzamento nella grida dei playoff di buon livello questa era una partita probabilmente da prendere. E' anche vero che Doleggio aveva importanti assenze come il Resca che aveva avuto un problema nella precedente giornata di campionato quindi insomma Doleggio era nei bassissimi passi fondi della classifica quindi insomma il risultato positivo ci poteva anche stare con questo roster a disposizione è che Bloise, Siracov e Longobardi che ancora non è a top insomma sono assenze che pesano sul roster a disposizione di Nicolai. Up and Down, giornata molto positiva l'ultima per Lucarelli 22 punti con percentuali dal campo elevatissime non si può dire la stessa cosa di Poltroneri che ha sicuramente preso il possesso dell'attacco della squadra gigliata però ha tirato 5 su 25 dal campo quindi diciamo serata un po' da dimenticare al tiro per Poltroneri. Avrà sicuramente modo di riscattarsi nella partita di sabato alle 19 nel derby con Lennick all'andata ricordiamo poco Poltronieri insieme a Motta che non gioca più per l'All Foods quindi se furono i grandi protagonisti. Sconfitta anche per Lennick nell'ultimo turno di campionato è un andamento un po' ondivogo quello della squadra di Salvetti perché nelle ultime giornate perde in casa e vince in trasferta e questo insomma è un po' un controtendenza con quello che è stato il 2017 fino a questo momento del Pino. Sconfitta in casa contro San Miniato anche qui gli acciacchi sono stati importanti perché c'erano due giocatori dell'Eni che non erano certo in perfette condizioni. Sì insieme a Maggini che avevamo anticipato nella settimana precedente e che aveva un problema alla caviglia anche Galmarini all'ultimo ha avuto problemi e quindi insomma due giocatori fondamentali per Salvetti che non erano al top. Poi un gioco fisico estremamente atletico da sostenere contro una squadra come San Miniato hanno fatto la differenza. È molto difficile peraltro giocare con San Miniato che a mio avviso in questo girone A di Serie B per soldi messi sul banco a disposizione per il budget ed anche per qualità del gioco è una delle grandi sorprese di questo campionato quindi complimenti sicuramente alla squadra di Federico Arsotti. Appuntamento fissato quindi su due posizioni la prima è sabato per tutti gli appassionati a San Marcellino ore 19 per il derby da guardare sugli spalti non importa se ti fiate col Fulzio o ti fate Enicli importante esserci perché è un bello spettacolo per tutti gli appassionati di Palatonezzo della nostra città il secondo appuntamento naturalmente è sul blog perché fra video, foto, interventi sulla partita pagella avremo un record completo su questo grande evento. Assolutamente, saremo al piano delle forze a San Marcellino per cercare di coprire quello che è una partita storica per Firenze. Quindi appuntamento per un sabato fantastico da Niccolò. Fabio. Un saluto quindi buon derby a tutti. Buon derby. Grazie a tutti.